Toscana Digitale Toscana Digitale Toscana Digitale Toscana Digitale Il Comune di Massa ha fatto importanti passi, penso anche semplicemente alla possibilità di pagare la scuola, bus, la mensa online. Abbiamo però dei problemi comunicativi, spesso i cittadini non sanno cosa possono e cosa potranno fare e poi abbiamo ovviamente da completare questa agenda digitale, digitalizzando anche tutte le procedure di gara e arrivando a compimento anche dell'archiviazione e quindi del portare sul digitale tutto quello che è archiviato su carta. E' sicuramente un'impresa non facile. Al centro di Toscana Digitale anche la nuova comunicazione pubblica, ovvero i nuovi strumenti sui social network e le piattaforme web che le pubbliche amministrazioni possono e devono utilizzare al meglio per dialogare con i cittadini. Questi incontri di Toscana Digitale che avete fatto sui territori, cosa ha emerso? Ma è emerso una grande voglia di informare e comunicare con i cittadini, quindi anche attraverso il dialogo e l'interazione da parte sia delle amministrazioni che delle aziende pubbliche ma anche delle imprese private, degli stessi cittadini che chiedono sempre di più di avere riferimenti attraverso i social network, le chat, l'intelligenza artificiale in un mondo che ormai richiede sempre più qualità. Quindi avere dei punti di riferimento che ti risolvono il piccolo problema quotidiano su strumenti che noi tutti ormai utilizziamo anche nel nostro privato. L'altra cosa molto importante, chiesta alla regione e su cui la regione lavorerà sicuramente, è un grande percorso di formazione per gli enti locali e per le aziende pubbliche per poter fare appunto questo servizio attraverso i nuovi strumenti di comunicazione. E' una regia, un punto di riferimento continuo che faccia sì che la Toscana, intesa come tutti i territori, dia un servizio sempre più rapido, in tempo reale e efficace ai cittadini.